buonasera e ben ritrovati iniziamo una nuova puntata di angoli e io come d'abitudine vi ricordo subito il nostro indirizzo mail angolichioccialespansionetv.it mi raccomando scriveteci perché a noi fa senz'altro piacere ricevere i vostri messaggi ma cosa più importante è questo il canale attraverso cui darci qualche indicazione di argomenti ad esempio che vorreste che approfondissimo qua insieme in studio poi magari appunto se avete qualche iniziativa di cui siete venuti a conoscenza e che vorreste che trattassimo segnalateci attraverso la nostra mail in questa prima parte della puntata stiamo in compagnia di gabriella bonanomi del direttivo legambiente di como e maria rita molteni presidente dell'università popolare di como buonasera buonasera allora io vi ho contattato perché in internet ho scoperto che stavate organizzando una serie di camminate di passeggiate volte proprio promuovere l'attività fisica attraverso appunto un aspetto culturale come è nato questo progetto gabriella ma questo progetto è nato per un interesse di legambiente anche di università popolare di amare il territorio del rispetto del territorio e soprattutto della valorizzazione del territorio nella cultura di legambiente la valorizzazione rispetto del territorio è una parte molto importante e questo si fa solo facendo cultura e la cultura del territorio è un modo per far cultura e far conoscere il territorio per cui noi abbiamo pensato di proporre una serie di camminate nei dintorni di como in modo che le persone si possano avvicinare le nostre bellezze a capire quanto sia importante poter rispettare l'ambiente per cui abbiamo proposto la prima camminata che abbiamo proposto purtroppo non siamo riusciti a farle l'abbiamo rimandata era il ponte del bottino che è una passeggiata del vecchio tram a camnago volta molto conosciuta mentre invece siamo riusciti a fare venerdì passato il 2 di dicembre la camminata in balbasca partendo da loro abbiamo percorso l'ipomo poi tutta la balbasca siamo arrivati al lavatoio di albate tornati indietro e questo è proprio per riuscire a stare insieme conoscendo il territorio non vogliamo questo ci tengo a precisarlo sostituirci a quello che c'è molto in città in città ci sono molte associazioni che si occupano di cultura diciamo più più stretto nel suo termine legata magari a degli aspetti di far conoscere monumenti ville paesaggi oppure altre passeggiate molto belle magari leggendo poesie il nostro è il nostro obiettivo è più far conoscere il territorio valorizzarlo stando insieme le nostre passeggiate si rivolgono a tutti nel senso che sono passeggiate abbastanza semplici di una durata di 5 6 chilometri vanno bene anche per i bambini bellissimo e poi insomma si ha anche l'opportunità di godere proprio della bellezza paesaggistica che ci circonda sì questo è una cosa che noi ci teniamo molto come non sembra ma basta uscire di poco e c'è ancora molto verde molto verde da scoprire dalla balbasca ma anche semplicemente salire il bar che sono passeggiate che poi faremo salire al baradello oppure la spina verde ma civiglio che è un'altra passeggiata che abbiamo intenzione di proporre a breve sono tutte zone molto vicine a como che si raggiungono molto spesso con dei mezzi di trasporto e che ci permettono di vivere a contatto con la natura ecco infatti dopo parleremo anche delle prossime passeggiate in programma prima però maria rita volevo capire con lei com'è che è nato questo sodalizio no tra le due realtà intanto perché fa parte un po del modo di vedere le cose dell'onestà popolare proprio quello dice fare rete cercare contatti con altre associazioni magari vicine per noi come modo di vedere come scopi per cui abbiamo pensato legambiente avevamo anche delle amicizie in comune questo facilita sempre i contatti e quindi abbiamo pensato di partire con un'associazione che già conosciuta sul territorio come legambiente come noi come un'università popolare cominciamo proprio a prendere molte radici sul nostro territorio ecco ma infatti io mi chiedo ma la cosa è possibile fare come è nata l'università popolare che cosa è possibile fare rispondo volentieri perché amo l'università popolare dunque è nata negli anni 80 come emanazione della cgl diciamo che è un'associazione di volontariato che fa parte dell'auser come autonomia di gestione autonoma di servizi ed è praticamente sono due rami uno che riguarda i servizi alla persona che è il filo d'argento probabilmente ne avete sentito parlare perché in città fa molto e che si occupa soprattutto degli anziani nel senso di aiuto alla persona nel senso di andare a fare la spesa piuttosto che accompagnare a qualche visita fare compagnia anche telefonica eccetera e quindi è molto importante questa finalità di del filo d'argento noi siamo università popolare quindi siamo all'interno dell'auser ma siamo soprattutto attenti al discorso della promozione promozione culturale ci occupiamo della cultura degli adulti in particolare di quegli adulti che sono arrivati al pensionamento per cui hanno anche bisogno un po di ridefinire il loro tempo libero la loro anche soprattutto per molte persone il desiderio di coltivare un discorso di cultura di apprendimento che magari durante la vita è stata a volte un pochino messa da parte per altre motivazioni per altre esigenze e quindi noi lo chiamiamo il piacere di continuare ad apprendere proprio dal punto di vista del benessere della persona intendendo proprio questo stato fisico mentale psicologico che ti aiuta a valorizzare il tuo potenziale sappiamo che oggi gli anziani sono una risorsa importante pensiamo che oggi siamo intorno al 22 per cento della popolazione italiana anziana e è previsto che all'interno di qualche decennio siamo addirittura al 33 per cento quindi è proprio il caso di valorizzare questa risorsa che sarà sempre più estesa dal punto di vista numerico e perché pensiamo proprio che il coltivare il piacere di apprendere tra l'altro in un ambiente noi teniamo molto in un contesto molto attento alle relazioni interpersonali per cui facciamo mostre visite guidate attività tipo le camminate di cui abbiamo parlato poco fa ci sono abbonamenti a spettacoli teatrali con il piccolo teatro di milano partecipiamo al cineforum del gloria diverse cose facciamo abbiamo corsi di lingue sappiamo quanto è importante le lingue proprio dal punto di vista della prevenzione della degenerazione mentale perché la stimolazione cognitiva le lingue particolarmente adatta dell'insegnamento delle lingue facciamo informatica e sappiamo informatica come importante proprio come momento di alfabetizzazione soprattutto la popolazione anziana diciamo matura perché nel nostro caso si va da persone anche più che non si potrebbero ancora definire del tutto anziane quindi sappiamo quanto è necessario il discorso dell'alfabetizzazione poi facciamo un discorso di disegno anche qui proprio come attenzione all'espressione alla creatività poi abbiamo quelli che noi chiamiamo i corsi brevi che sono corsi di letteratura di storia di arte e nelle quale alla quale partecipano i nostri professori che sono tutti volontari questo è importante un'associazione di volontariato quindi siamo tutti volontari abbiamo una nostra sede che è quella presso l'istituto carducci di viale cavallotti 7 e ci troviamo il il nostro calendario va da lunedì al venerdì sia al mattino e pomeriggio per i corsi di lingue il pomeriggio è soprattutto dedicato ai corsi brevi che sono questi corsi che offrono una serie di stimolazioni dal punto di vista della cultura in genere quindi la storia dell'arte piuttosto che la musica eccetera abbiamo lavoriamo con dei programmi quadrimestrali questo è il nostro piccolo libretto che presenta il programma ogni quadrimestre posso anticipare alcune cose che abbiamo fatto posso per già fatte diciamo soprattutto abbiamo avuto diversi successi al partecipando a corsi dedicati alla musica dedicati alla storia dell'arte adesso sta avuto molto successo un discorso sull'islam perché l'attenzione di un popolare anche quello della cittadinanza attiva quindi quello di partecipare alla vita della società e quindi anche alle grandi tematiche che la società con se richiede certo che offre e questo soprattutto perché sappiamo che viviamo in un mondo molto complesso in cui quello che si sa è molto meno di quello che si è molto più di quello che si riesce a capire e quindi un contributo da parte dell'unità popolare a capire anche il mondo in cui ci troviamo certo con anche una grossa opportunità appunto come diceva per tenerti attivi per esercitare anche il proprio cervello e quindi sicuramente una una risorsa e tornando anche alle passeggiate quali sono le prossime in programma non è che è arrivato il freddo adesso ci fermiamo ecco no la nostra intenzione di continuare con le camminate anche durante il periodo invernale alterneremo le nostre camminate ad incontri con degli specialisti proprio perché la camminata è legata al benessere fisico psichico e anche a con degli esperti che valorizzeranno la relazione dello stare insieme perché camminare è sicuramente un benessere per se stessi ma quando si crea poi anche una relazione con gli altri favorisce un incontro con altre persone le prossime camminate la futura prima camminate quella del 16 di dicembre che partiamo dal monumento ai caduti di como arriviamo a villageno e poi faremo via torno e scendiamo dalla via della madonnina che è una via poco conosciuta che era la via dei vecchi lanari e delle lavandaie di como sant'agostino e poi torniamo indietro mentre le altre la nostra intenzione è sicuramente quella di fare quella del ponte del bottino che abbiamo dovuto saltare per brutto tempo civiglio e poi sicuramente ritorneremo in valbasca l'intenzione poi di farne un'altra che è una camminata che parte da cadorago con dalla stazione di cadorago lungo il seveso poi abbiamo intenzione di fare il di andare a cernobio di fare il percorso il chilometro della conoscenza abbiamo intenzione di rimanere soprattutto nella parte diciamo più invernale vicino a como mentre poi invece sicuramente faremo tremezzina il lago di como brunate cioè posti sicuramente un pochino più lontani ma abbiamo bisogno anche di avere un po più di luce diciamo per cui dobbiamo aspettare la primavera d'accordo allora in attesa della primavera vi invito a visitare il sito www.hauser.lombardia.it dove potete rintracciare la sezione como in cui si trovano tutti i programmi giusto facebook e anche facebook come come quella la pagina facebook e basta proprio chiedere un'està popolare come benissimo allora grazie mille entrambe per essere state con noi stasera l'appuntamento con angoli subito dopo la pubblicità restate con noi ciao 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 ciao